È stato il fondatore del fascismo, il capo del governo. È senza dubbio il personaggio del momento. I vostri nomi? Benito Mussolini. Il mio obiettivo è di viaggiare per l'Italia e di riconquistarla. Sareste d'accordo su una dittatura? Ma una dittatura libera però. Una dittatura non troppo dittatura. Benito. Mussolini è occupato. Ma Dux 2018 è libero? Io non sono Dux 2018. Superuomo. Preso. Camicia nera. Eccellenza lui. Preso. E che cazzo? E che cazzo è libero? Lasciatemi cantare con la chitarra in mano. Lasciatemi cantare una canzone. Che razza di persona sei? Convincente. Votate, votate, votate. Ma che serve votare se voi non avete la minima idea di quello che fanno i politici? Che voi avete votato. Volete scoprire se il trailer è entrato nella nostra classifica? Visitate il link nell'infobox e commentate sotto al video. Ricordatevi inoltre di cercare Screen Week e di iscrivervi a tutti i nostri social. YouTube, Facebook, Twitter e Instagram. Per ogni notizia sul cinema, sulle serie TV, per il gossip dell'ultima ora e le recensioni delle ultime uscite, non perdetevi il nostro blog, blog.screenweek.it. Volete inoltre rimanere connessi anche dal vostro smartphone Apple o Android? Scaricate le nostre app Screen Week e Screen Week TV. Sono gratuite. Ciao!